Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio mi andiamo insieme sul canale del giocatore insieme oggi andremo a fare video sorpresa appena avete aperto il video avete visto questa schermata ebbene si giochiamo a minecraft ragazzi minecraft e ci sono tutti questi mondi qua minecraft e boom ho creato tre mondi però ci sono due mondi di top secret quindi non li voglio aprire perché arriveranno pure delle serie dedicate a minecraft quindi sarà molto bello ma mi sto spingendo troppo adesso stiamo aprendo il mondo sul computer e sono tanto contento perché allora questo video qua sto facendo di sabato sabato che è ancora giorno ragazzi mamma mia quanto bagam oh allora che bello ragazzi allora adesso sono in creative non so perché ma ci mettiamo in survival però mamma mia già mi sono bagato allora innanzitutto vi volevo far vedere la mia castellanza ma che cavolo ma tu ma scusami ma stiamo no ma no ma scusami ma cos'è sta cosa qua ma che cavolo ma che cavolo meno male che sono in creative e adesso come faccio no raga no non mi posso mettere in survival vabbè comunque la mia castellanza per adesso e solo per adesso questing è su una parte c'è un enderman adesso non so se conoscete minecraft ma è un gioco dove puoi creare il tuo mondo puoi fare praticamente di tutto e di più ed è sparito allora entriamo dall'entrata va facciamo che entriamo dall'entrata buongiorno tranquilli è tutto chiuso qua c'è un tetto e c'è il mio caro è bel letto direi di dormirci quindi dormiamo ragazzi e intanto ci sono mille no c'è il mio c'è il mio papagallino eh papagallino buongiorno a tutti che non mi entrino dentro perché è l'unica cosa bella quanto ci vuole ad ammazzarli oh aspetta va che oh così si ragiona è questo eh lo vedo lo vedo gebedia ciao gebedia gebedia non so per me dalla carne marcia cosa c'è un buco mamma mia tutti da morire via forza mamma cosa succede cosa succede cosa ragazzi via mamma mia si sta laggando a casa ragazzi chiediamo tutto spostati spostati vai via le mie costellanza no 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 raga raga ci sono un po' di pesci che sta morendo c'è sto villager qua buongiorno villager salve no queste cose qua non le comprerò mai perché non ho eh invece si colorante nero no non mi interessa niente cioè sei troppo costoso ciao hai tuoi lama ma io me un genitore di zombie di gatto no il gatto va bene di scheletro ma ragazzi qua non ci sono zombie scheletri sono solo creeper allora io di certo secondo me sono entrate di notte sti maledetti qua ma tutti dovete crepare il mio stacateste tutti i fatti è stacateste mi ristacco queste teste allora veramente sto giocando manchi solo tu solo tu maledetto solo tu no non lo verò mai giamai gebedia 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 allora tu devi morire eh mamma mia che velocità ma ragazzi guarda qua i pish tutto un bel casino oh maledette ok quindi allora l'obiettivo di oggi era far vedere il castello abbiamo perso un po' di tempo si sta baggando tutto ok allora vi faccio un po' vedere come la ci sta ci sta molto guardate che bello c'è quel villager lì che prendo lo staccateste e lo stacco allora innanzitutto questo è tutto cioè praticamente il mio palazzo di riserva ma poi farò la mia casa ma la farò tipo qua la voglio fare ok va bene ok la vorrei fare uno stile bello quindi nel prossimo video che vedrete sul canale ci sarà una casa nuova ma diciamo che posso iniziarla a costruire adesso adesso però guardiamoci in giro monitoriamo la situation che non ci siano cose strane cos'era un creeper un creeper un creeper stiamo in creative che è meglio stiamo in creative stiamo in creative che è una mod per chi non lo spesse allora se cerco cemento calcestruzzo volevo del cemento rosso però uso il calcestruzzo allora ci serve la calcestruzzo che ce lo mettiamo qui beh ho già troppa roba poi ci vorrà il legno che direi questo tipo qua l'abete si no quercia dai quercia poi ci serviranno che scalini prendo ragazzi aspetta questo qua questo qua allora non so se avete un po' intravisto cosa vorrei fare carne marcia mamma mia buttiamola via cioè non è che abbia un po' un po' di così senso cioè non va bene avere una carne marcia nel proprio invento ok quindi qua costruiremo la casa per adesso visto che il video sta già turando tantissimo facciamo la base però non mi piace sto legno qua cioè non mi convince è più scuro che meglio va qua ce la teniamo nell'inventario non si sa mai ragazzi allora qua non ci interessa che c'è l'erbaccio tanto poi spialo tutto quindi allora tecnicamente vorrei partire da qua e la farò allora così no così 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 secondo me è un'altezza che ci sta adesso stiamo facendo le ferramenta e adesso questa la facciamo lontana poi sarà bellissima ragazzi vedete allora sicuramente qualcuno lo conoscerete che ha fatto una casa così eh non dico il nome se no poi arriva della gente che mi dice qualcosa quindi facciamo stare non so se lo conoscete ma comunque guardate e ragazzi intanto che siamo qua che parlo che faccio cerco per voi inglesi english ciao english hello vabbè comunque per gli inglesi che mi seguono degli inglesi non so se lo sapete ma mi seguono degli inglesi quindi sono molto contento non so se lo sapete ma seguitemi su instagram allora ho creato l'account per il canale che si chiama giocatori invece ovviamente il mio account è privato leocris v leocris v che ci sta come super nome no adesso le ferramenta secondo me vanno bene però ragazzi devo finire il video allora ci vediamo alla prossima intanto io vado avanti a costruire qua lo prometto comincio a fare un altro video e ci vediamo alla prossima ciao